La vicenda Sogepu e Sogeco torna a tenere banco nel panorama politico locale. Dopo la visita della Guardia di Finanza nella sede di Via Vittorina e Città di Castello e nella sede di Ece, Exe e Cocave, i partiti prendono posizione anche a seguito dell'annuncio da parte del Comune dei Via Libera alle candidature per i membri del CDA della Municipalizzata. La prima a scendere in campo è stata Emanuele Arcaleni di Castello Cambia, che chiede ai vertici della Giunta, chi avrebbe dovuto controllare e aggiunge, nell'attesa delle risultanze delle indagini e delle scontate quanto dovute di missioni di Goracci, ha detto il rappresentante dell'opposizione, resta inappellabile giudizio politico sulle amministrazioni comunali che si sono succedute, incapaci di garantire la gestione pubblica della raccolta dei rifiuti e di salvaguardare l'immagine e l'operato della principale partecipata. A stretto giro di posta è stato il sindaco Luca Seconde a replicare, evidenziando che, le recenti dichiarazioni di esponenti politici che vogliono ricondurre in politica situazioni relative ad indagini, ha detto il primo cittadino, costituiscono un tentativo goffo e scomposto. Gli aspetti politici riguardano il raggiungimento di obiettivi e lì si devono fermare. Lo stesso primo cittadino, a ridosso dei controlli, aveva affermato che, in un pieno spirito garantista, preme sottolineare che, nell'interesse dei comuni come socio di maggioranza, si confida nell'azione dell'autorità competente nei chiarire la situazione. E ciò ha scoperto anche il PD, che in una nota del titolo emblematico Nuova Governance per Sogepo, patrimonio riconosciuto dell'intera collettività, evidenza come la scelta dell'amministrazione comunale di avviare subito la procedura, già calanderizzata per la modifica del sistema di governance di Sogepo, con il ritorno al Consiglio di CDA, dopo l'esperienza dell'amministratore unico imposta dal testo unico delle partecipate, vada nella giusta direzione. E la segreteria comunale aggiunge, per quanto concerne le notizie di indagini della Guardia di Finanza, su mandato della Procura della Repubblica di Perugia, la segreteria ha espresso il massimo rispetto e fiducia per l'azione degli organismi competenti. Infine, in una nota congiunta di gran parte dell'opposizione, firmata infatti da Eldarossi e Riccardo Levecchi, di Fratelli d'Italia, Tommaso Campagni, di Forza Italia, Andrea Lignani Marchesani, di Castello Civica e Roberto Marinelli, di Civica Marinelli, si chiedono se esiste un legame tra l'avvio di un'indagine si fatta e la comunicazione dell'apertura del bando per il rinnovo delle nomine della partecipata.